Palma, questo Ascoli che batte lo Spezia 3 a 0, primo posto in classifica, che sensazioni provi? Non si può descrivere, perché proprio, guarda, una cosa sembra inverosimile che l'Ascoli in questo momento attraversa questo periodo così bello che noi 5-6 anni fa proprio nemmeno ce lo sognavamo. Lunedì si gioca contro la Cremonese, che partita ti aspetti? Secondo te l'Ascoli cosa farà? Beh, io non so, adesso io ho sempre fiducia perché anche lo Spezia che era stato messo tanto in discussione, che sembrava una squadra ostica che non ti faceva giocare, invece l'Ascoli si è talmente bene disimpegnata sia col gioco, sia con l'attacco, la grinta, cioè è una squadra che ha sia la difesa, sia il centrocampo che l'attacco. Quindi a Cremona si può vincere? Pure, pure, perché l'Ascoli adesso in questo momento sta bene anche psicologicamente, sta veramente sfruttando le loro potenzialità del gioco. Forse è l'allenatore che gli metterà gli imbrime sulla testa, insomma, che devono giocare in mezzo al campo, devono... E quindi è una soddisfazione immensa. Adesso siamo primi in classifica. Vediamo. Che dici? È un sogno che io spero che si realizzi, che a fine campionato siamo una delle candidate alla Serie A. Grazie Palma.